Chi sono i candidati che andranno a sedersi nei banchi del Consiglio regionale delle Marche? Facciamo chiarezza grazie alla ripartizione dei seggi nella circoscrizione della provincia di Pesaro e Urbino. Nel Partito Democratico, il partito più votato della provincia pesarese, entrano nei banchi dell'opposizione Andrea Biancani con 10.224 preferenze insieme alla giornalista Micaela Vitri con 5.786 voti. Gli altri cinque seggi sono ripartiti tra Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Civitas Civici. Nella Lega passano i due fanesi Mirko Carloni, il più votato delle Marche del Carroccio con 6.827 preferenze e il giovane Luca Serfilippi con 3.357 voti. Un consigliere scatta anche nella fila di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni dove a rappresentare il partito del governatore siederà l'ex sindaco di Pergola, Francesco Baldelli che ha ottenuto 4.991 preferenze. Entra in consiglio regionale, nelle file dell'opposizione, anche un'altra fanese, Marta Ruggeri del Movimento 5 Stelle che ha totalizzato in tutta la provincia 1.685 voti di cui 1.151 nella sua città. Infine un consigliere anche della lista della coalizione di centrodestra, Civitas Civici dove il candidato più votato è risultato Giacomo Rossi di Apecchio con ben 646 preferenze. Tra gli esclusi invece ci sono l'attuale sindaco di Cogli al Metauro Stefano Aguzzi e il vicepresidente dell'Assemblea Legislativa Renato Claudio Minardi.